In Italia voteranno 10 milioni di cittadini e le elezioni saranno in contemporanea con quelle francesi, praticamente in contemporanea con due lender tedeschi, in contemporanea con quelle greche e intanto in Romania è cascato un governo e il Premier ha interin, è un progressista. Ora tutto il mondo guarda queste elezioni per capire se fra Italia, Germania e Francia succederà qualcosa che muove le cose in Europa. Sentiamoci lì dentro anche, perché abbiamo capito che l'Europa non è una cosa esotica, è una cosa che abbiamo alla porta di casa e se si va avanti così noi andiamo contro un muro, sia chiaro, perché qui in Europa e poi in Italia più che in Europa e a Palermo più che in Italia. Cos'è successo in questi anni? Guardate, è successa la stessa cosa. La destra ha vinto davanti alla globalizzazione sul ripiegamento, sulle paure, sull'egoismo, sull'isolamento, sull'idea che uno che è più forte se la può cavare da solo, no? Perché deve dare orecchie uno più debole? Se la Germania è più forte della Grecia e se Varese è più forte di Palermo e se un professionista è più forte un operaio, eccetera. Ciascuno pensi a sé fondamentalmente. È arrivata la crisi, quello era l'armamentario ideologico e ci si è cacciati e la destra ci ha portato in una situazione assurda.